A Capannori Babbo Natale quest'anno arriverà in auto o anche in bicicletta. È stata infatti presentata l'iniziativa Natale con i tuoi negozi, promossa dall'amministrazione Menesini per supportare gli esercizi commerciali del territorio in occasione delle festività natalizie. Sarà infatti attivo da questo weekend il servizio di consegna a domicilio dei regali di Natale, che grazie a un contributo del comune sarà a costo zero per i commercianti e gratuito per i clienti e che sarà svolto dall'associazione Ascolta la mia voce. I negozi che hanno aderito circa una quarantina sono consultabili sul sito web e la pagina facebook nataleconituoinegozi.it. Il servizio di consegna avverrà con un furgone, un'auto o una bicicletta attrezzata che riportano un adesivo con l'immagine e la scritta Babbo Natale consegna a domicilio e il logo del comune e sarà attivo fino all'epifania per cinque giorni a settimana dal martedì al sabato. Un'iniziativa importante a sostegno del commercio locale e per venire incontro anche alle esigenze della cittadinanza. Questa iniziativa accanto alla campagna che stiamo portando avanti per il cibo da sport e per sostenere i nostri commercianti sul cibo da sport sono due iniziative forti che facciamo in questo momento a sostegno della nostra economia.